Il riposo del guerriero! Senti, ho fatto un giro per l'azienda. Ti volevo fare i miei complimenti. Bellissimo, uno spettacolo. Tanto sacrificio alla fine. No, no, ma mi piace la zona dove sono tutti gli animaletti, belli coniglietti, cinghialotti, ma da che tenerezza. Bisogna stare dietro gli animali ma... Poi ho anche credito molto, quelle due cassette che hai fatto là, il B&B. Quello l'abbiamo fatto l'anno scorso. E anche devo dire, anche le piantagioni di verdure che hai fatto. Vabbè, abbiamo iniziato così anni e anni fa ma... Ma voi fate anche la vendita di prodotti qua? Sì, c'è il punto vendita e si prendiamo, sì, siamo là ma... Comunque, veramente, è un cambiamento notevole. Complimenti. Grazie. Senti un po', ma tu tra cinque anni dove ti vedi? Senti, ad essere sinceri, spero di arrivare a venerdì. Sì, spero. Se ci arrivo, sabato magari te lo faccio sapere io. Se no mi sento che non ce l'ho fatto. Vabbè, non è uscito buono. Vabbè, di poco, non si sa mai. Ciao. Ciao.